Siamo a Dosoledo, in questa splendida fila dei Fienili, perché proprio a Dosoledo organizzeremo noi della nostra associazione I Comelianti, assieme al gruppo musicale di Costalta e ad altri volontari del posto, la rassegna teatrale Autunno a teatro in Comelico 2021, una rassegna che arriva quest'anno nella sua undicesima edizione, lo scorso anno nel 2020 per motivi pandemici purtroppo è stata sospesa, mentre quest'anno fortunatamente riusciamo a ripartire e ripartiremo proprio qui a Dosoledo. Il nostro gruppo I Comelianti è nato nel 2009 in seno ad un laboratorio teatrale tenuto da Claudio Michelazzi a Costalissoio e poi da lì è andato avanti portando in scena diverse commedie, diversi spettacoli tra i più allegri e anche quelli più impegnati e quest'anno realizzeremo questa rassegna Autunno a teatro in Comelico che comincerà domenica 31 ottobre e vedrà come primo appuntamento alle ore 17 la compagnia pubblica e bugie che presenterà la sua commedia a specchio della società odierna che si intitola la cena delle bugie. La rassegna si terrà la sala polifunzionale di Dosoledo presso la scuola primaria che vedete qui alle mie spalle. La sala è stata recentemente rinnovata dal comune di Comelico Superiore che l'ha dotata di un nuovo e ampio palcoscenico che garantirà a tutti l'ottima godibilità di tutti gli spettacoli. Vi invito a venire a visitarci intanto sul nostro sito icomeglianti.it e poi ovviamente alla rassegna Autunno a teatro in Comelico 2021 qui a Dosoledo.